La grafia come segno quasi pittorico ad accompagnare le litografie di Aldo Bergogli. Dino Buzzati rivive anche in questo, in quella calligrafia trattiscolastica, trattinquieta che riempie alcune pagine del libro Underground, stampato in 120 copie soltanto, nel 1964. La biblioteca civica di Belluno ne possiede un esemplare, acquistato di recente alla libreria Marini di Bari. Con 450 euro di spesa, a Palazzo Crepadona è arrivato un volume importante non solo per il valore storico, ma anche per quell'emozione continua che lega Belluno a uno dei suoi cittadini più celebri. Eccole lì quindi quelle pagine vergate di nero che accompagnano le figure di metropolitane che schizzano tra segni di colore. Si avvertono i sommovimenti di un mondo sotterraneo, underground appunto, che scossero gli anni 60 milanesi e non solo. Il volume naturalmente non può essere preso in prestito, ma liberamente consultabile in biblioteca.